La città di Zernia è sconvolta dalla perdita della piccola Silvia e lei sta predisponendo il lutto cittadino? Sì, io credo che sia opportuno, quindi farò un provvedimento per dichiarare il lutto cittadino il giorno dei funerali della piccola. Siamo veramente tristi, la nostra comunità credo che è stata colpita tutta perché è un evento assurdo, perde qualcuno che si sta affacciando alla vita adesso praticamente, una ragazza delle nostre scuole, delle scuole della scuola media, della scuola dell'obbligo, per cui seguite con particolare attenzione dalla struttura comunale, quindi questo ci addolora quello che è successo, è una cosa peraltro avvenuta durante le ore di lezione, questo ancora di più, davanti ai ragazzi e compagni di scuola, è un'esperienza atroce e io credo che la nostra comunità tutta ne sia stata colpita.